Buon pomeriggio, ben trovati da Moversi in Toscana e da Mauro Ciutini. Sulla statale 679, il raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, il traffico è ancora bloccato in entrambe le direzioni. In prossimità del bivio per San Giuliano-Sanzeno c'è stato un incidente che ha coinvolto due autovetture. Veicolo fermo segnalato in A1 tra Incisaregello e Firenze-Sud, la direzione è quella per Firenze. Riduzione di carreggiata sulla Vistiberina E45 tra Pieve-Santo Stefano Nord e Pieve-Santo Stefano Sud in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni. Sulla statale della Cisa, la 62, senso unico alternato tra Villafranca e Lunigiana e l'incrocio Pontremoli. Ricordo ancora che in A1 è chiuso un tratto per lavori tra l'alciamento A1 variante direzione Nord e lo svincolo Rioveggio in direzione di Bologna. È tutto, muoversi in Toscana in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze, a dopo.